È un pezzo di storia del Veneto ed è bene che sia tornato a casa. Devo anche dire che questo dovrebbe fare ragionare le istituzioni anche nazionali rispetto a quei beni della Repubblica Veneta che sono nei palazzi delle istituzioni nazionali. Non sarebbe male che ci fossero già queste restituzioni. E dopo magari dall'altro a livello internazionale abbiamo un sacco di opere d'arte, il Venete, della nostra comunità, della nostra Repubblica Veneta che sono in giro per i musei del mondo. Non sarebbe male che qualcuno le restituisse anche perché per molte ci risulta che non siano state pagate ma bensì rubate. Il messaggio del presidente Zaia è chiaro e arriva proprio in un giorno che lui stesso definisce storico per Venezia e per il Veneto. Il ritorno a casa dell'ormai famoso busto del Doge Giovanni II Corner dopo varie peripezie. È stato presentato a Palazzo Balbi dove sarà collocato nell'atrio in modo che soprattutto i ragazzi delle scuole che vi faranno visita potranno conoscere un pezzo di storia fondamentale per la Serenissima. A farsi promotore della raccolta fondi che ha permesso di aggiudicarsi all'asta al prezzo di 36.000 euro il busto è stata l'associazione VenetiNet impegnata nella diffusione e nella salvaguardia della cultura veneta. Lui era il Doge della Repubblica Veneta molto più importante di me. Una Repubblica seria, una Repubblica che è stata la prima democrazia. 1.100 anni di storia. Insomma direi che con onore riceviamo questa donazione e faremo in modo che sia riservato al Doge Giovanni II Corner lo spazio e il lustro che si merita.